Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale! Siamo qua con Seth e il papà alla guida E dove stiamo andando? A Milano dei Cedri! Alle terme! Sì, andiamo alle terme, una giornata di relax nelle terme più belle d'Italia Siamo pronti? Sei pronto Seth? Eh, lui un po' ancora addormentato La tese si trova nel lago di Garda Benvenuti alla tese Questa qui che abbiamo davanti è la Porta Cansignorio La tese in epoca romana si trovava in un lungo e importante via di comunicazione per le merci che si transitavano da nord La tese ormigliava la flotta veneziana all'epoca della Serenissima Flotta che però subì una pesante sconfitta per mano dei francesi Napoleone Bonaparte all'inizio del Cinquecento in cui il capitano Zaccaria lo era riuscì a salvare alcune navi e portarla qui nel porto della Cise ma gli fu dato l'ordine di affondarle per non cadere le mani nemiche e le navi sono ancora qua la città è la prima città che diventò l'autonomo del 1123 il castello della Cise resta uno dei castelli di tutto il lago di Garda medio conservati e troviamo anche un bellissimo parco di Yoko davanti a questo castello della Cise adesso andiamo a collare la Cise qui con tinto adesso ci mettiamo in acqua benvenuti a tutti a collare la Cise questo qua è il parco termale del Garda via dei Ciedri adesso dobbiamo avanzare questa strada fino a dove si trova la fontana dove si trova questo lago termale non c'è Sous-titrage ST' 501 ... 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